Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Da oggi, martedì 5 marzo, almeno fino a domenica, la nostra penisola sarà interessata dal passaggio di una sequenza di perturbazioni atlantiche. Innanzitutto oggi avremo un peggioramento del tempo portato dalla perturbazione numero 2 che inizierà ad interessare le regioni occidentali nel pomeriggio di anno e che poi tra domani e giovedì porterà pioggia diffusa su tutta l'Italia. Nel pomeriggio di giovedì la situazione inizierà a migliorare sulle regioni di nord-ovest ma si tratterà di un miglioramento temporaneo. Infatti venerdì mattina arriverà una nuova perturbazione atlantica, la numero 3 del mese di marzo, che porterà ancora pioggia soprattutto sulle regioni centrosettentronali. Venerdì mattina, e siamo all'8 di marzo, arriverà ancora un'altra perturbazione, la numero 4 del mese di marzo e infine tra la sera di domenica e la notte su lunedì la perturbazione numero 5 dalla Spagna, ancora una nuova perturbazione, quindi porterà pioggia soprattutto sulla Liguria e lungo il versante tirrenico. Andiamo intanto a vedere la situazione fotografata dal satellite. Vedete la perturbazione numero 2 che ormai con la sua nuvolosità ha ricoperto il cielo di tutta l'Italia che comincerà a dare i suoi effetti in termini di precipitazioni a partire dal pomeriggio. E infatti se andiamo a vedere la previsione per la giornata odierna osservate già la nuvolosità che nel pomeriggio avrà ricoperto il cielo di quasi tutta la nostra penisola, la nuvolosità più compatta sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico con le prime piogge sulla Liguria, sul Piemonte, sull'ovest della Lombardia, sulla Toscana e anche sulle due isole maggiori. Poi nel pomeriggio la situazione tende ulteriormente a peggiorare con le piogge che si estenderanno a quasi tutto il nord Italia, a quasi tutte le regioni centrali, alla Sardegna e all'ovest della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in lieve calo sul Piemonte, qui comprese in genere tra 5 e 8 gradi, tra 11 e 13 gradi sul resto del nord e tra 13 e 16 gradi al sud e sulle due isole maggiori e anche sulle regioni centrali. Bene, ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e ancora una buona giornata.